Ben ritrovati in seconda parte di Buongiorno Friuli su Udinese TV, siamo pronti per parlare di Udinese e di calcio ma non solo. Partiamo però dai bianconeri che ieri, la vedete in questa bella immagine a centropagina, hanno potuto vivere un pomeriggio assieme ai tifosi con in questo caso Pussetto che gioca a calcio balidla con i tifosi bianconeri dopo la presentazione ufficiale di ieri. Nel frattempo la formazione bianconera cerca un nuovo attaccante polivalente come lui e che cosa si muove sul fronte mercato? Gli aggiornamenti di oggi secondo il messaggero danno niente samp per vieto e si complica Caprari, si punta ora su Saul. Il Cagliaritano è l'alternativa al Doriano assieme alla Padula. Il suo contratto scade nel 2019, i primi contatti con l'agente. Per quanto riguarda poi sul fronte uscite c'è l'offerta francesa e turca per Ertò, Angela valuta adesso la Corte del Palermo. Per quanto riguarda Sau invece potrebbe arrivare per poco, si parla di un milione e mezzo di euro, il prezzo del cartellino. Trovare agevolmente un accordo per un biennale, Julio Velasquez, per lui sarebbe il classico giallo offensivo. Ricordando che la scorsa stagione Sau ha giocato 29 partite segnando due gol e che a Cagliari ha pure agito al fianco di Pavoletti nel 3-5-2. La vera qualità però è nella capacità di interpretare tutti i ruoli d'attacco. Il riepilogo sempre sul fronte mercato c'è l'Enigma Keen, il 18enne attaccante della Juve sul mercato. Secondo la stampa è sempre più lontano dall'ipotesi udinese, ma il giocatore assistito da Minoraio la finirà probabilmente alla Nizza. Invece per tutto mercato web l'Udinese ha rotto gli indugi nella trattativa per il ragazzo. Si parla poi anche di Andreoli, non solo Sau, anche Andreoli dunque in uscita dal Cagliari sembra vicino al Sassuolo, ma i Neroverdi hanno rifiutato lo scambio con Peluso, per questo secondo il sito calciocasteldu.it il difensore sarebbe di nuovo finito nel mirino dell'Udinese. Ancora avanti con le notizie che arrivano dal fronte mercato, Marcus Roden esterno di centrocampo in forza al Crotone, alla Nazionale Svedese, la pista che ripropone tutto Udinese.it e poi c'è anche Perizza che ha fatto le sue prime dichiarazioni con la maglia della Frosinone, dice sono una prima punta faccio gol, purtroppo Udin è giocavo esterno, ha dichiarato il Croato. Ieri dicevamo la presentazione di Pussetto con un ambizioso autoritratto di Maria e Pavon, i miei modelli. Le prime parole ufficiali con il bianconero addosso dell'attaccante argentino acquistato dagli Hurricane per 10 milioni di dollari. Dice di ispirarsi ad Angel di Maria e di esaltarsi nell'uno contro uno grazie alla sua velocità. In attesa di vederlo all'opera, il ragazzo ieri è stato presentato nella sala stampa della Dacia Arena dal direttore dell'area tecnica Pradè. Lo seguivamo da tempo, lo volevamo in molti, per noi è un investimento importante. Ora dovrà ripagarci un calciatore forte e offensivo che rispecchia la mentalità udinese, ha dichiarato Pradè. Per quanto riguarda, a proposito del puntero di Velázquez, ha scelto il numero 23 per riconoscenza al suo vecchio club con cui si è messo in luce e si è già fatto un'idea del tecnico. Sin dal mio arrivo ho parlato molto con Velázquez, ha detto Pussetto, lui mi ha parlato delle sue idee, del suo stile di gioco che vuole dare alla squadra e anche di quello che dovrebbe essere il mio ruolo. Per quanto riguarda poi ancora le altre notizie legate all'Udinese, c'è naturalmente il bagno di folla che vi abbiamo raccontato live ieri con l'incontro con i tifosi in Curva Nord, Lasagna che si lascia scappare, sarò io il nuovo capitano. Più di 500 i tifosi all'Udinese Point, a caccia di selfie, autografi, 5 volti nuovi presenti assieme al Bomber. Queste le immagini con Kevin Lasagna assediato per gli autografi dai tifosi bianconeri che in barba ai 30 gradi di un pomeriggio d'agosto hanno raggiunto lo stadio per festeggiare assieme i ragazzi. In questo avvio di stagione c'era Felipe Vizeu, Ioan Musso, Rolando Mandragora, Ildi Teraves, Ignacio Pussetto, oltre a Kevin Lasagna che sempre con i più piccoli si è reso disponibile per i selfie. Davvero bellissimo vedere che qui ci sono anche i bambini pronti ad aiutarci e sostenerci, ha detto Lasagna, nonostante il caldo. Cosa mi sento di garantire loro? Di dare il 120%, come sempre ho fatto, e di non mollare mai. E poi anche Teraves e Pussetto hanno iniziato a prendere confidenza giocando a calcio balilla con alcuni piccoli tifosi e posando per le varie foto. Davvero una bella iniziativa quella portata avanti ieri in Dacia Arena. Alcuni spilli di calcio in pillole, è uscito il nome dell'arbitro che dirigerà l'incontro tra Udinese e Benevento, valido per il secondo turno di Coppa Italia. In programma domani sera alle ore 20, al Friuli sarà Giacomelli della sezione di Trieste. Sul fronte Serie A invece è stato graziato il Parma, la corte d'appello FIGG, accolto ai ricorsi di Calaio e della società, togliendo la penalizzazione ai Ducali e riducendo la squalifica della punta fino al 31 dicembre. La Atalanta invece, la portacolore italiana al momento in Europa League, ha superato ieri l'Apoel-Aifa per 4-1 con le reti di Atebor, Zapata, Pasalic e Barrow e ora aspetta la gara di ritorno per accedere al turno successivo. Ancora mercato con le altre trattative in Serie A, Modric sparisce dai social del Real, se lascerà Madrid c'è solo l'Inter. Florentino segue sempre più le tracce di Tiago e di Milinkovic, nel Razzurro anche Keita, a prescindere dalla cessione in cambio al Monaco di Candreva. E poi gli altri spunti, il Milan all'arrivo di Baccaioco dal Chelsea, apre alla partenza di Locatelli cercato dal Sassuolo, la Roma piace sempre in Zonzi del Siviglia che l'Arsenal non è riuscito ad acquistare, alternativa Samasecu del Salisburgo. Torino infine respinta l'offerta del Besiktas che voleva gli Aici in prestito con il diritto di riscatto. Queste sono alcune delle notizie di mercato che troveremo tra poco anche sugli altri quotidiani. Continuiamo a parlare di Udinese ora dalle pagine del Gazzettino, con una prima foto che avevamo trovato prima nel dorso della cronaca e questa è la pagina sportiva. Vedete, la rivoluzione bianconera ha fatto tornare l'amore. Centinaia i tifosi dell'Udinese che ieri hanno incontrato i propri beniamini, l'entusiasmo è stato anche superiore all'estate scorsa quando c'era Del Neri e c'è l'articolo a firma di Stefano Giovampietro con il racconto della giornata vissuta in Dacia Arena. Le altre notizie che troviamo, il punto mercato con Guido Gomirato, per l'attacco il più quotato è Cornelius, il figlio di Di Natale nel frattempo punta nell'Under 16 dell'Empoli. Ci sono anche alcuni aggiornamenti sulle trattative. Si parla, come detto, di Cornelius, ma anche di Marco Andreoli del Cagliari che potrebbe essere compensato con lo scambio con Danilo. E poi ancora, quale terza ipotesi? Si parla sempre di Sebastiano De Maio, 31 anni del Bologna. Poi sul punto attaccante di Cornelius dell'Atalanta, Gianluca Caprari della Sampdoria. Ha considerato poi che la Padula Genoa spara ancora alto. Il giocatore è entrato deciso nell'obiettivo della Parma. Vedremo anche come continuerà per quanto riguarda il fronte mercato. Uno spillo sugli allenamenti. Stamane alle 12.30 al termine dell'allenamento. Julio Velasquez, lo ricordiamo, terrà la conferenza stampa di presentazione della sfida di Coppa Italia di domani alle 20 con il Benevento e noi naturalmente saremo live per farvi sentire le parole di Mr. Velasquez. Chiudiamo ancora con la pagina dedicata all'udinese dal Gazzettino. Si parla di Nacio Pussetto, l'attaccante che vuole emergere. Ieri dicevamo appunto la presentazione in Dacia Arena con Pradè. Sogno la nazionale, prima però devo appunto farmi notare a Udine. Ha dichiarato Pussetto che ha scelto, lo ricordiamo, il numero 23 per la sua maglia. 22 anni invece la sua età è costata all'udinese circa 10 milioni di dollari. E queste erano le notizie sulla formazione bianconera che abbiamo trovato sulla pagina del Gazzettino. Continuiamo ora a sfogliare le notizie per quanto riguarda il calcio locale con il Pordenone perché sappiamo che per quanto riguarda la Serie C è ancora tutto in alto mare. Allora prima di dedicarci sulla Serie C siamo già pronti grazie all'ausilio della regia per collegarci con la sala operativa della Polizia Locale di Udine. Invece diamo il buongiorno ad Andrea Dorlando che ci fa il punto della situazione di una Udine praticamente deserta stamattina. Buongiorno a tutti, sì, non sono segnalate appunto criticità lungo le vie cittadine. Segnaliamo solo anche per oggi in diversi punti della città continuano i lavori di posa della fibra ottica mentre alle ore 10.45 lungo via Bariglaria nel quartiere di Godia passerà il 45esimo giro cicloturistico internazionale del Friuli Venezia Giulia nella tappa che oggi va da Tavagnaco a Palmanova. Ci saranno delle restrizioni alla circolazione nella zona di Godia. Non ci sono altre notizie dunque mentre vedete scorrere proprio le strade quasi deserte della città. Ringraziamo Gabriele Dorlando, agente della Polizia Locale di Udine. Noi ritorniamo ora sui quotidiani, dicevamo, del punto sulla Serie C e sulla Pordenone. Il campionato ora potrebbe partire dal 2 settembre ma i ricorsi congelano tutto. Più che probabile infatti un nuovo sliltamento dei gironi e dei calendari. Il presidente della Lega Pro Gravine dice ci saranno 56 squadre. Oggi è atteso intanto un primo verdetto sui ripescaggi e la Juventus B rimane l'unica grande iscritta. Lo sapete c'era questa possibilità quest'anno per le squadre di Serie A di avere una loro selezione Under 23 che giocasse nel campionato di Serie C ma dopo le iniziali proposte di tante squadre solo la Juventus ha deciso di formare questa formazione per la Serie C. I calendari verranno presentati mercoledì 22 alle 18 nel Palazzo dell'Esposizione. Il campionato di Serie C per il Pordenone di Mister Tesseri inizierà il 2 settembre. Ma forse l'incognita infatti è sempre dietro l'angolo per queste diverse situazioni. Dipende tutto quasi anche dalla Serie B perché c'è il ricorso di Lentella contro la penalizzazione di 15 punti. Ci sono ancora i ricorsi di Ternana e Siena nei confronti della sentenza Novara e di conseguenza al Catania. Davvero un dedalo di ricorsi che non permette dunque alle varie leghe di poter presentare e definire il quadro delle formazioni e quindi anche i calendari e la partenza dei campionati. Infatti Ternana e Siena contro Novara e Catania sono in ballo due posti in Serie B e C e il caos continua. Nel frattempo il Pordenone lavora sul mercato, oggi l'incontro per Stanco e Gerardi invece è pronto a trasferirsi a Bolzano. Stanco, l'attaccante è entrato nella lista dei desideri del club nero-verde, restano da limare alcuni dettagli. Poi dovrebbe perfezionarsi l'accordo che permetterà all'attaccante di diventare il nuovo numero 9 del Pordenone e poi consentirà a Federico Gerardi di ascoltare le varie offerte su Di Luce al Sud Tirol ma anche la ex squadra, la Feralpi di Salò. Vedremo che cosa sceglierà il bomber nero-verde. Sempre sul fronte Pordenone si fa il punto anche sugli abbonati che sono già 400 e la febbre nero-verde è in crescita con il 21% in più rispetto al 9 agosto dello scorso anno. L'obiettivo è superare quota 540 il totale delle tessere che erano state sottoscritte nel 2017. Nel frattempo si ricorda la prevendita per l'amichevole di lusso contro il Venezia in programma sabato 18 allo stadio Bottecchia a fischio d'inizio alle 17.30 per i ramarri. A proposito di Pordenone andiamo anche a dare un'occhiata alle pagine pordenonesi del messaggero per il punto sulla formazione nero-verde. La riprendiamo. Eccola qua. Si parla di giovani Meneghetti, Lovisa e gli altri. I giovani in rampa di lancio. Il portiere del centrocampista hanno giocato titolari in Coppa contro l'Albino Leff. e un altro sedicenne Bertoli invece si è aggiunto a loro nei supplementari con il Pescara. Il presidente si gode i frutti del vivaio. Nove nostri ragazzi ceduti a società di Serie A. Dice orgoglioso Mauro Lovisa con appunto tanti ragazzi che si stanno mettendo in mostra. Si parla anche di mercato con il matrimonio tra Bindi e il Pordenone sempre più vicino come vedevamo anche prima sul Gazzettino. Nel frattempo Gianvito Misuracca rientrerà ad allenarsi con la squadra a metà della prossima settimana dopo essersi sottoposto alla risonanza magnetica. Per quanto riguarda poi gli altri giocatori Mirko Stefano il capitano ha sudato in solitudine a causa di un risentimento alla caviglia destra si aggregerà al gruppo nei prossimi giorni. Questo sul fronte Pordenone dal messaggero Veneto. Ritorniamo ora a parlare degli altri sport dalle pagine proprio del messaggero. C'è il nuoto ma anche la questione dell'atletica perché sarà una grande serata quella odierna con Alessia Trosta il protagonista. Partiamo dal nuoto però con Codia, Quadarella, Pansiera, gli europei azzurri sono d'oro il Tristino vince i 100 Farfalla con il record italiano, il Trist di Simona nei 400 stile libero poi l'Exploat nei 200 d'orso di Margherita. Terzi posti per Vergani e Castiglioni. Il nostro Furlan ha mancato il podio invece di 10 km centrato da Gabrielleschi. Per quanto riguarda il nuoto, quello giovanile in particolare, c'è un altro friulano che si sta facendo notare ed Ilan Buonaguro classe 2002 di Villa Santina porta a casa tre metalli ai campionati italiani giovanili di nuoto. Dicevamo dell'atletica con il bronzo a Chiappinelli ma l'eurosogno di stasera è proprio per Alessia Trost. La vedete in quest'immagine, è pronta a partecipare alla sfida del salto in alto a Berlino con gli europei. Come ricorda Alberto Bertolotto, a Zurigo nel 2014 arrivò nona, ad Amsterdam nel 2016 sesta. Non sarà in forma smagliante, non sarà l'atleta del 2013 o del 2015 che andava oltre i due metri e l'1,97 ma è un agonista che non va sottovalutata, dice Alberto Bertolotto a proposito della Trost. Poi c'è anche Chiara Cainero che oggi sarà impegnata per giocarsi l'accesso alla fase finale degli europei di skit a Löbersdorf. La tirrettrice friulana sarà in pedana alle 8.30 per la prima delle tre serie dei 25 piattelli che completano le qualificazioni. Chiara ha sparato ieri le sue prime due e ha fatto 22 e 24 su 25. Continuiamo a parlare di sport, di calcio dilettanti. Si ritorna sulla finalissima di mercoledì in Coppa Carnia. L'Ovarese può godersi la sua Coppa. Il Cavazzo si interroga a cuore precisione dal dischetto per il trionfo bianco-azzurro. Mister Chiementin, l'allenatore del Cavazzo, dice guardiamo avanti la rivincita in campionato. Poi ancora altre notizie sui dilettanti. Sono stati rese noti ieri gli incontri, gli scontri della Coppa Italia di eccellenza e promozione con i vari tabelloni. Si partirà con 16 squadre in eccellenza, 32 in promozione. Gara secca, poi la finale il 22 dicembre a Fontana Fredda nel caso dell'eccellenza. Il 24 di aprile a Faedis e poi per quanto riguarda invece questo primo turno in campo l'eccellenza al 25 agosto, ritorno primo settembre. E per quanto riguarda invece le sfide ci saranno già i primi incroci tra Juventina e Lumignacco, Tricesimo, Manzanese, Fontana Fredda a Corrinons, Progorizia e San Luigi, Fleibano, Lignano, Crass, Brian, Ronchi e Gemonese, Fiume Veneto, Bannia e Torviscosa. In promozione invece si giocherà il 29 agosto l'andata e il 2 settembre il ritorno. E questi sono gli incroci delle 32 squadre in campo. Chiudiamo con il basket, dalle pagine del messaggero, battuta l'Irlanda, l'Italia si consola, stiamo parlando degli europei di basket in corso a Udine. Vella dice noi volevamo i quarti. La delusione con le tedesche, le azzurrine alla prima gara verso le finali per il nono posto degli europei under 18 ha evitato così la retrocessione grazie alla vittoria con l'Irlanda appunto. Ma al campionato prosegue, al Palasport ieri i quarti con l'Ungheria che ha battuto la Francia 69-61, la Spagna ha piegato il Belgio 72-73. Vittoriosa anche Lettonia e Germania rispettivamente con Russia e Repubblica Ceca. Le due semifinali domani dunque Spagna-Ungheria e Lettonia-Germania. Come sempre il carnera sarà aperto a tutti coloro i quali vorranno godersi queste sfide dell'Europeo under 18 di basket. Andiamo ora sui quotidiani sportivi nazionali. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. La parte alta della prima pagina è dedicata al nuoto. Super Simo 6 unica, pazzesca quadarella, un trisdoro mai visto, in trionfo anche panziera e codia. 22 le medaglie italiane agli europei che sono e saranno storici. La romana ha vinto anche i 400, gli italiani pure i 200 d'orso donne. e i 100 farfalla uomini. Un nuoto da record, l'acqua è azzurra. A centro pagina invece Modric, Inter il top, esclusiva intervista a Fabio Capello, è tra i più forti del mondo, ma Realfa Ramuro. Con Ronaldo la Serie A torna grande, Higuain il Milan. Ora è serio, dice Mister Capello in questa intervista esclusiva alla Gazzetta. Ma sulla trattativa di Modric cosa accade? Il cronato oggi vede Perez, vuole giocare in nerazzurro. Sul fronte Cristiano Ronaldo invece, soldi e clic, gol, la Juve e un mese insieme a CR7. Il Milan, Silva, Siviglia, prestito con riscatto a 38 milioni. C'è la questione Serie B a 19, FIGC verso il taglio, clamoroso dietro front con l'appoggio del CONI, blocco dei ripescaggi dal Novara al Catania, sei club pronti ai ricorsi. Le società iscritte al campionato hanno sollecitato il provvedimento e adesso è ancora più caos. Si parla anche dell'Euro Atalanta, uno spettacolo anche in Israele, play-off prenotato dopo la vittoria 4-1 all'Apoel. E ancora il Parma in A, primo gol in tribunale, tolti i cinque punti di penalizzazione. La polemica invece è in nazionale, Pirlo contrattacca. La federazione sapeva tutto del contratto TV. Sapete appunto che Andrea Pirlo ha rifiutato l'incarico di supporto al tecnico Mancini, confermando dunque di voler fare televisione. Andiamo all'interno con alcune battute dall'intervista di Fabio Capello, l'allenatore friulano di Pieris, che parla di Modric e dice tra i più forti del mondo l'Inter lo vuole, il Real farà muro. Sulla VAR cosa dice Capello? In Premier magari hanno rinviato il progetto perché l'abbiamo introdotta noi per primi, una autorete colossale. E poi Luca, tornando su Modric, c'è il centrocampista più moderno di tutti, la sua evoluzione nel ruolo esemplare, per questo penso che dopo Ronaldo Madrid non può perderlo. E poi ancora con CR7 tutti sono tornati a parlare della Serie A, bisogna sfruttare il peso. Higuain se ha scelto il Milan vuol dire che il progetto ora è davvero serio. Andiamo con le altre pagine interne della Gazzetta dello Sport per affrontare le altre questioni legate al futuro della Serie A, pronta per partire. Si parla di Roma, si parla di Napoli con la questione San Paolo e poi ancora dalle pagine interne della Gazzetta l'Euro Atalanta che ha demolito l'Apoel, i nerazzurri vanno subito sotto, poi la violenta reazione con Attebor, Zapata, Pasarice, Barrow. E ancora con le altre notizie di mercato, continua la nostra carrellata. Si parla di Parma con la prima vittoria in Serie A, ovvero è stato tolto il meno 5. Solo ammenda, nessun illecito, la corte d'appello e derubrica As Lealtà Sportiva e Whatsapp di Calaiò che terminerà la sua squalifica il 31 dicembre. Quindi tutto alla fine si è risolto in una bolla di sapone. Il club ha dichiarato pensiamo a conquistare la salvezza insieme ai nostri tifosi, beffato il Palermo che ora rimane solo il ricorso al Coni contro il Frosinone. Per quanto riguarda invece il mercato, andiamo a vedere gli ultimi aggiornamenti sul quadro formazioni di Serie A. L'Udinese si apre così il pezzo per l'attacco ha messo nel merino Ken della Juve che arriverebbe a titolo definitivo con ricompra per i bianconeri. Nelle prossime ore nuovi contatti tra i club. Anche Pinamonti resta nella lista dei frulani come Boriello e c'è in ballo pure Cornelius. Il sogno era Quagliarella ma Ferrero ha fatto muro, non è in uscita dalla SPAL, così scrive la Gazza per il mercato bianconero. E andiamo anche a vedere la questione della Serie B con la forse prossima sforbiciata del numero delle formazioni, c'è il blocco dei ripescaggi. Si va verso la Serie B a 19, Fabricini sostenuto dal Coni, pensa al clamoroso dietro fronte, pronta a una raffica di ricorsi. Ma si partirebbe il calendario forse lunedì, naturalmente vedremo che cosa accadrà anche le varie reazioni, le prime, così la categoria diventa più sostenibile, la rabbia degli esclusi, siamo alla follia pura e come ormai da un paio di estati a questa parte il calcio italiano si contraddistingue proprio per queste polemiche nella gestione dei calendari. Passiamo ora al Corriere dello Sport. Modric è sparito, Florentino glissa una foto ufficiale e fa impazzire gli interisti, l'assenza del croato sul profilo social scatena al finimondo, Perez ha la presentazione di Courtois al Bernabeu, solo i migliori, ma Luca è nella lista dei 33 della Supercoppa, oggi il faccia a faccia. E ancora, Napoli non è più in campagna, storica decisione, club di De Laurenti scancella la raccolta degli abbonamenti, Parma salvo, Palermo è una furia, ha annullato il meno 5 degli emiliani, paga solo Calaiò con 4 mesi. E ancora di taglio alto. È un calcio di pazzi, parla il presidente Ferrero, un'analisi spietata nel momento della Serie A, l'intervista di Ivan Zazzaroni, quello normale sono io, la Lega roba da scherzi a parte, pallotta un miracolato, il migliore lotito, intelligenza superiore, ma il nemico in casa. E ancora Squalarella, il gioco di parole per raccontare la mostruosa notatrice italiana, dopo 800 e 1500 metri si divora anche i 400. E ancora, con la chiusura dedicata alla prima pagina di Tutto Sport, Acqua Azzurra, Acqua d'Oro, il nuoto ancora protagonista con le immagini e i volti dei nuotatori italiani strepitosi agli europei. A centro pagina invece c'è Milinkovic, Juve o Real. Chiuso il mercato in Inghilterra, per il serbo restano in corso i bianconeri e gli spagnoli. Una settimana di fuoco che può coinvolgere Marcello e Pjanic, poi fantastico Atalanta, 4-1 ad Aifa. Chiudiamo qui la nostra carrellata di prime pagine sportive. Prima di salutarci, uno sguardo al meteo per le previsioni di giornata sui cieli della nostra regione. Ricordiamo che da ieri è stata lanciata l'allerta meteo sino alla mattina di domani sabato. Nuvolosità variabile con rovesce e temporali sparsi, alternati a fasi di tempo migliore, possibili temporali forti sulla costa, brezza. Domani invece sabato le previsioni per quanto riguarda la nostra regione vedono ancora nella notte fino alle prime ore probabili rovesci, temporali sparsi, anche forti. Poi bora moderata su pianura e costa, nel pomeriggio ancora locali piogge e poi in serata tempo più stabile calerà il caldo e l'AFA. Vi ricordiamo gli appuntamenti di oggi su DNewsTV, oltre all'appuntamento con il Tg di pranzo alle 13.30, la conferenza di Mr. Velasquez in diretta dalle 12.15 dalla Dacia Arena per la presentazione della sfida di Coppa Italia contro il Benevento. In prima serata invece alle ore 21, Village 2018, alla scoperta di mete favolose per i viaggi da sogno. È davvero tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, rimanete con noi per tutta la giornata. Buona giornata! Grazie a tutti!